ciao ragazzi bentornati nel canale ed eccoci qua e io ragazzi ogni tanto compaio ogni tanto scompaio ma non vi preoccupate tutto bene perché sono sempre incasinata comunque ragazzi dai io in questo video vi porto un faescopa new e simboli del miliardario una nuova doppia sfida e la mitica battaglia navale allora ragazzi iniziamo subito con il faescopa new numero 24 vediamo eccoci qua allora vediamo le carte sul tavolo abbiamo un asso qui c'è un zero un altro asso è un 7 quindi dobbiamo trovare un cavallo allora iniziamo subito dalla prima carta e c'è un 2 poi abbiamo un 10 qui troviamo un 8 il 9 è saltato 5 qui c'è il 7 e qui c'è il 9 ok l'abbiamo trovato ragazzi 9 vediamo giù se ne troviamo un altro qui c'è il tasso 7 qui c'è un 6 4 10 e ultima carta un 5 va bene ragazzi comunque il 9 l'abbiamo trovato anche se sono 2 euro comunque abbiamo recuperato infatti sono 2 euro e abbiamo recuperato il costo del grattino allora adesso vediamo con i simboli del miliardario numero 49 vediamo qui ecco qua ragazzi iniziamo la moneta qui abbiamo la stella qui abbiamo un'altra stella vediamo qui giù qui abbiamo un'altra moneta quindi qui possiamo fare abbiamo ancora la possibilità di fare il tris vediamo allora qui abbiamo il lingotto qui abbiamo il ferro un altro ferro un altro ferro vediamo il bonus la moneta e niente ragazzi qui c'è il lingotto e niente questo il biglietto purtroppo è perdente vediamo adesso con il nuovo doppia sfida numero 18 ecco qua allora vediamo i numeri un attimo solamente ragazzi e ok allora primo numero 11 niente niente 19 niente 28 44 non abbiamo niente con la quarantina 45 42 e cioè sta mettendo tutti invece con la quarantina 41 quindici poi qui sotto abbiamo il 47 37 33 33 12 e infine il 32 niente allora vediamo gli importi qui c'è 20 euro 10 euro e 10.000 qui abbiamo invece abbiamo invece 500 euro 50 euro e 100 qui invece abbiamo 100 euro solo due qui 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 e 10.000 10.000 sono due ragazzi ma non ce ne facciamo niente qui ci sono pure 250 euro 500.000 euro e infine e infine 500.000 euro niente ragazzi anche questo biglietto è perdente scusate allora qui chiudiamo un po' ecco qua ok ecco qui si si vede allora prima coordinata e3 e3 eccolo qua un pezzetto d3 questo è un altro pezzetto h5 eccolo qua e questa è quella grossa poi e2 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 questa va bene poi h2 niente questa è sempre una grande f1 e niente acqua vediamo qui la situazione ci dovrebbe dare un e4 sì e4 ce la darà c5 vediamo un altro pezzetto questo è carino da 2 poi b7 b7 acqua penultima coordinata d4 c4 sì niente ragazzi ultima coordinata vediamo un attimino ma h1 e niente acqua allora vediamo se troviamo lo scrigno ma da tantissimo non lo trovo quindi chissà che fine ha fatto beh io da tantissimo voi l'avete trovato? allora vediamo niente ragazzi niente 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 da fare niente da fare e non c'è non c'è qui sotto c'erano queste belle barchette da 1 carine carine ma niente e va bene ragazzi anche questo biglietto è perdente vediamo facciamo il punto della situazione abbiamo grattato tutti questi grattini qui per una spesa di 14 euro e abbiamo trovato un biglietto da 2 euro e niente ragazzi è andata così l'importante comunque è stare insieme e ragazzi io vi rinnovo una buona giornata e niente vi ringrazio tantissimo per la visione comunque se volete iscrivetevi al canale chi ancora non l'ha fatto e niente ragazzi mettete un like e io vi ringrazio vi do un fortissimo abbraccio e un grande bacio ciao ciao alla prossima da Marilena grazie